e bella a tutti bentornati in questo secondo episodio di scendo in pista questa è la mia macchina e questa è la gara di mon paradona sono due giri dovrebbe essere abbastanza veloce però arrivare ai primi non è assolutamente facile non partiamo ultimi però neanche i primi vai vai accentrati vai 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 un pezzo di schifo un pezzo di schifo vai 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 mamma mia sto sbattendo dappertutto frena 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 accelera vai 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 resta dietro resta dietro resta dietro piede la scia poi quando gli dicano tra di loro gli superi vedi te ne approfitti che lui l'ha superato e superi anche te e lo metti fuori pista ok bro 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 occhio occhio freda 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 vai sali 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 decimo no ottavo sì schiere ocio freda 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 vai sali 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 tra l'altro allargati, vi ricordo che chi vuole farmi le mappe di worldcraft lo può tranquillamente fare come premo? prena? siamo terzi raga? secondi? no, si invece secondi? primi no e lo può tranquillamente fare se mi vuole fare le mappe di worldcraft lo può assolutamente fare quindi come premio io dirò il suo nome esplicitamente nei miei video il suo nome su instagram e se mi da il link posso anche metterlo in descrizione in modo tale che chi vuole clicca sopra e ti va subito a seguire e mi sono distratto frate abbiamo perso un po' di tempo qua un po' di distanza un po' di vantaggio abbiamo perso sì dai adesso però corri su in descrizione c'è la nostra chart discord se volete entrateci dovete installarvi un'app che si chiama discord se cliccate sul mio link lo fate direttamente e è un modo per parlare insieme mentre si gioca e possiamo parlare in più di 500 in contemporanea quindi è una bellissima app e la utilizzano molti youtuber e pro player quando fanno i tornei o comunque sia quando giocano in più di cinque persone e nada in fondo al vi nella parte finale del video vi lascio il primo e il precedente e il prossimo video di questa no penso solo il precedente perché il prossimo ancora lo devo registrare quindi nada e niente ve lo lascio delle schede finali nel video quindi se volete cliccateci sopra e abbiamo acquistato un grandissimo vantaggio raga un grandissimo vantaggio poi oggi sono contentissimo perché ieri la juve è uscita dalla champions forza ajax c'era vai stessa cori 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 bello bello così no sbagliato 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 frate vai 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 si sta a spaccare il muro oh dragon quindi iscrivetevi nei commenti lasciate like iscrivetevi al canale attivate la campanella se non l'avete fa no e nada sottolineo commenti ditemi se siete disposti a crearmi delle mappe di wordcraft e nel mentre raga come altro premio avrete che non ho detto nello scorso episodio avrete un po di video in anticipo ma non in anticipo di un giorno di una di cinque una settimana cinque giorni una settimana un livello 12 sono emozionato 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 Continua, ma anche no, no, un giro, coppa, un giro, questa si sta ancora ristrutturando, gara, Suzuka circuito, c'è l'ambulanza nel mentre, lì a destra, così a caso, non si sa mai se qualcuno potrebbe schiattare, quello che al lato più bello sono io qua, levatevi tutti, io l'ambienvo, go 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 go, qua alla prima curva scommettete che arriva subito il primo, eh, alla prima curva di già, vai, 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 viva il manganello, guardate, questa è la prima curva, non ci sono arrivato prima, però, dai, quasi, guarda, 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 l'ho fregato di tutti, quanto godo, bebe, a bebe, a bebe, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, attivate campanella, così ricevete notifiche sui nuovi video, cocco bello, cocco fresco, mamma mia, mi sono distratto, corri, 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 abbiamo perso una maria di vantaggio, corri, corri 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 stringi 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 mamma mia da 140 metri siamo passati a 70 vabbè dai l'abbiamo recuperato dai vai 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 mamma mia quanto corre sta macchina inoltre se avete free fire potete giocare con me basta che mi dite vostro nome potete giocare anche insieme a me a questo tranquillamente perché esistono le gare multiplayer che però si sblocca nel livello 10 io sto a livello 12 l'ho già sblocca te si possono fare tornei passata all'ambulanza a me la nata questo episodio finisce qui iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e lasciate like e non scordatevi di commentare se volete fare le mappe per me ricordo il premio è vostro nome di instagram link del vostro accanto instagram e avete per una settimana i video anticipati quindi in esclusiva solo per voi e li vedete prima e niente bella